Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tra le iniziative che si stanno svolgendo a Sciacca, e ce ne sono davvero tante, e questo è un fatto molto positivo per la città, c'è quella che riguarda la pitturazione in rosso di una panchina da parte dei ragazzi dell'Istituto Don Michele Arena di Sciacca. Siamo con i ragazzi che vedete all'opera e anche con le insegnanti che stanno curando il progetto. Professoressa Cantone, voi avete pensato subito a curare questo aspetto della panchina? Sì, è stata una nostra idea, più che altro l'idea di una mia carissima collega che collabora attivamente con me, che ha pensato, mi ha chiesto, ma nella nostra città esiste un simbolo che ricordi questa giornata internazionale? Ho detto veramente no, mettiamolo in atto e subito mi sono messa all'opera chiedendo l'autorizzazione all'assessore ai lavori pubblici, il professore Calogero Segreto e al sindaco e al vice sindaco che hanno accordato con grande gioia, devo dire, l'adempimento, cioè il compimento di questa panchina rossa che è il simbolo che esiste in tutte quante le città, in quasi almeno tutte quante le città italiane e non. E simboleggia, voi lo sappiamo bene che cosa, cioè questa giornata, questo simbolo, proprio simboleggia il dolore, la sopraffazione che subiscono moltissime donne, non solo in Italia, nel mondo, nel nostro paese, dovunque, a causa della violenza di uomini che credono di amare le proprie donne. Infatti noi, in una nostra performance che faranno i ragazzi, realizzeranno i ragazzi, proprio viene messo in risalto questo, l'amore malato da parte di alcuni uomini, ma anche di donne, molto spesso capita, di uomini che credono di amare la propria donna e invece non fanno altro che agire violentamente contro di lei. Molto spesso facendola morire, proprio fisicamente, fisicologicamente e annientando completamente la volontà della donna che non si rende conto dell'amore malato che il marito o il fidanzato nutre nei suoi confronti e dice, nonostante tutto, di amare l'uomo che le sta vicino. Professoressa Sant'Angelo, voi avete messo all'opera i ragazzi nella realizzazione di questo lavoro e loro subito hanno risposto di buon grado. Sì, perché sono abituati anche a scuola a diversi progetti di arte, di creazione, di manualità, li mettiamo in atto ogni anno. Quindi questi ragazzi dei servizi sociosanitari sono abituati ad avere un rapporto con il pubblico e poi sentono anche loro questa sensibilizzazione contro la violenza, contro le donne, tutto quello che si sente dire oggi. Ricordiamo che tutto questo poi culminerà con l'inaugurazione e con un momento di approfondimento. Sì, lunedì ci sarà questa inaugurazione, anche domani ci sarà qualche evento che riguarda la messa in opera che stanno facendo i ragazzi adesso, la realizzazione di questa panchina del colore rosso proprio che ci sta a indicare quello che è la violenza contro le donne e cerchiamo sempre di combattere e di vincere questo aspetto negativo della nostra società.